Cos'è la tachicardia ventricolare pulseless? La tachicardia ventricolare senza polso ha un'emergenza cardiaca pericolosa per la vita che si conclude nella morte senza un trattamento immediato e immediato. Il termine tachicardia si riferisce a una frequenza cardiaca rapida, comunemente intesa come superiore a 100 battiti al minuto. Ventricolare si riferisce a una frequenza cardiaca rapida avviata elettronicamente dalle camere inferiori del cuore e i ventricoli in contrasto con il solito centro di controllo negli atri, il fascio dis. Pulsel si riferisce al fatto che i ventricoli stanno pompando così rapidamente e fuori uso con gli atri che il solito volume di sangue è spulso con ogni battito cardiaco un impulso assente. Quindi, questa condizione ha uno stato temporaneo in cui i grandi ventricoli del cuore stanno pompando molto rapidamente ma completamente inefficacemente. Come notato sopra, la tachicardia ventricolare senza polso è una condizione cardiaca temporanea. È considerato temporaneo perché non è coerente con la vita. Nonostante il fatto che il cuore si muova, non batte e quindi non riesce a far circolare sangue ossigenato verso i tessuti e gli organi del corpo, compreso il cuore. L'ipossia o basse concentrazioni di ossigeno provocano la morte cellulare tessutale in pochi minuti. La tachicardia ventricolare pulsele si trasforma in fibrillazione ventricolare, in cui il cuore batte semplicemente casualmente noto come V-fib che si trasforma rapidamente in asistolia, la linea retta tracciata su una macchina elettrocardiografica nota agli appassionati di drammi medici televisivi. Molte condizioni mediche possono predisporre qualcuno allo sviluppo della tachicardia ventricolare senza polso. Le precedenti cardiopatie con la morte dei tessuti lungo le vie di conduzione elettrica del cuore possono essere un fattore importante. Secondo gli esperti, un evento prolungato di tachicardia ventricolare senza polso è stato spesso preceduto da tiri corti e autolimitati 6 battiti o meno in una o più occasioni. Altre condizioni che possono facilitare lo sviluppo di questa condizione includono ipocaliemia o ipossia. L'ipopotassiemia è il termine medico per i bassi livelli sierici di potassio, che tende a rendere i ventricoli irritabili, mentre l'ipossia descrive una situazione di basso livello di ossigeno e questa condizione può danneggiare livelli più elevati di funzionamento elettrico cardiaco. Il trattamento della tachicardia ventricolare senza polso è una procedura di emergenza comunemente indicata come codice. Le compressioni toraciche manuali vengono somministrate per simulare il battito cardiaco funzionale e la circolazione del volume sanguigno. L'intubazione, o il posizionamento di un tubo di respirazione, viene eseguita e l'ossigeno viene somministrato con una maschera manuale o un ventilatore per evitare la morte del tessuto. Uno shock elettrico viene gestito da un defibrillatore elettrico automatico, defibrillatore automatico esterno, o da un defibrillatore manuale nel tentativo di interrompere il ritmo ventricolare pericoloso e consentire la ripresa del ritmo cardiaco funzionale. Se il codice ha avuto successo, il paziente viene trattato in un'unità di terapia intensiva, IQ, o unità di cura cardiaca, CCU.